ciao a tutti appassionati anime manga sono Alex come sempre invito su youtube su instagram su twitch e anche il mio youtube per stare sempre aggiornati tutti i link come sempre trovate qui sotto in descrizione oggi andrò a fare il video acquisti della terza settimana il mese di febbraio 2024 non è uscita granché sinceramente però vediamo cosa è uscito della toshokan è uscito gli architetti di babele volume 1 prezzo 7 euro e 90 come sapete tutti la toshokan dietro sovracoperta tutte le sovracoperte tutti i volumi è un mini poster volume 1 di 2 quindi farò la recensione quando riuscirà anche secondo volume ma se siete curiosi magari mi scrivete su instagram o nel mio gruppo telegram che magari inizio a dire un po le mie impressioni ecco però ecco farò la recensione finale i disegni sembrano carini belli 18 secolo avanti cristo mesopotamia il re amarubi di babilonia ha creato un immenso regno per assicurare eterna prosperità ai propri domini ordina costruzione torre alta fino al sole gaga giovane architetto di corte proveniente da famiglie soldati si mette in viaggio verso una città lontana dove vive nimrod un discendente di noè che ha fama di essere più talentuoso progettista al mondo il suo obiettivo è trovarlo e portarlo al sovrano se non ci riuscirà andrà incontro una tremenda punizione vediamo vediamo sono solo due volumi quindi una miniserie vediamo sono curioso sempre da toshokan questo è un volume unico quindi mi uscirà la recensione i cacciatori di draghi e altri racconti è prezzo 8 euro 90 volume unico quindi probabilmente probabilmente ci sono storie tre storie brevi cacciatori draghi mari tempestosi e nene firmata medesimo artista il giovane talentuoso tazumi augur racconti intrisi di fantascienza e fantastico dove la tecnologia si sconta con creature gigantesche mostrose vedere il poster bello devo dire il poster bello sono curioso vedere che storia rappresenta sembra unione di meca e e kaiju o forse due storie diverse ecco sono curioso mi porterò la recensione anche se ecco essendo te racconti un po difficile perché non devo non farò spoiler ma ne racconto uno nei particolari gli altri gli accenno un po la trama e vediamo poi passiamo a j pop con non tormentarmi nagatoro volume 17 prezzo 6 euro di j pop con agatoro la conoscete tutti penso che non manchi molto la conclusione dell'opera è un sentimentale scolastico i personali sono caratterizzati bene soprattutto lei perché lui non minab non ha questa grande che caratterizzazione però entrambi comunque hanno un'evoluzione nel proseguo della storia e vediamo quando finalmente si decideranno mettersi insieme si diranno la verità in faccia sono curioso poi uno che aspettava tanto un box di l'orrore di doom witch di j pop questo box costa 22 euro 50 l'opera originale di lovecraft disegnatore gotta nabe ovviamente usciranno anche i volumi singoli a 7 euro 50 l'uno di questo vi porterò la recensione più avanti settimana prossima probabilmente porterò la recensione faccio vedere un po il volume 1 se ancora non conoscete i disegni di gotta nabe e le opere di lovecraft ecco sono tanta tanta roba soprattutto per chi ama il fantasy un po l'horror ecco nessuno più oro che fantasy ma comunque tanta tanta roba poi continuiamo con star comics e sto parlando di one piece volume 102 edito star comics questa è la nuova edizione quella bianca prezzo 5 euro e venti guardate che bella copertina come sapete io faccio entrambi sia quella blu che quella bianca poi continuiamo con sempre star comics studio eternity volume 25 euro e 90 mi è piaciuto parecchio la prima parte quando entrato nel secondo arco narrativo non mi è entusiasmato cioè quello attuale non mi sta entusiasmando anche se adesso sembra anzi con l'ultimo volume iniziato un terzo arco narrativo e penso quello conclusivo voglio vedere voglio vedere come continua e come andrà a concludersi quest'opera perché è stata buona un buon livello fino a un certo punto poi meno gusti personali non mi ha entusiasmato ecco non mi ha dato quelle stesse emozioni che ho provato all'inizio sembrava un po un troppo un ripetersi un po troppo un confusi un confusionario ecco a un certo punto la storia troppe cose buttate lì lo preferivo di gallunga nella prima parte però vediamo questa terza e ultima parte poi è uscito dragon ball 22 la ultimate edition prezzo 15 euro ovviamente la star comics super saiyan quindi finalmente super saiyan è già solo sta copertina e tanta tanta roba stai solo ore a orare questa copertina perché questo qua è tutta la mia infanzia grazie a lui se c'è questo canale grazie a lui probabilmente se i manga e gli animi sono spopolati così tanto in italia poi passiamo alla planet mi è arrivata la steel box di caring guerriero ovviamente 24 euro 90 della planet manga faccio un po vedere la varian che insomma niente di che potevano impegnarsi un po di più e tutto in bianco e gli animi sono ok fa stile però potevano impegnarsi un po di più poi ovviamente una cartolina e un magnete dedicato io ho la vecchia edizione star comics di caring guerriero quindi non andrò a fare la nuova che uscirà la nuova edizione perché non voglio non voglio sbuttare io troppi soldi ecco c'ho già quella e tengo quella sbaglio se non sbaglio però mi va benissimo quella perché ho già trante sere come sapete sto mano a mano riducendo sempre di più come vedete scelgo davvero con attenzione le novità e le nuove manga che stanno uscendo e non prendo più tutto come prima li lascio continuare cioè li stoppo quasi subito sono molto più più selettivo ultimo volume per bentornato alice prezzo 7 euro volume 7 della planet manga quindi autore suzoshimi e vediamo vedremo vedremo come si concluderà l'opera poi se volete la recensione al finale scrivetemi qui sotto nei commenti vi porterò la recensione poi è uscito anche boys ibis volume 11 prezzo 7 euro della planet manga questo manga dark psicologico drammatico se vi piacciono queste storie drammatiche fa davvero caso vostro ed è tanta trova fin dal primo volume mi è piaciuto un sacco e davvero non vedo l'ora di continuare l'opera e di vedere come andrà a concludersi poi ultimo volume che ho preso questa settimana e sopra di mi e ruko chan volume 8 prezzo 7 euro e to the flight manga questo manga che un po metà tra horror e comico paradossalmente però a meno me ci sono delle scene nonostante siano horror che mi fanno morire da ridere e perché davvero soprattutto le espressioni che ha lei davvero molto molto divertenti però c'è anche un accenno di trama che è sempre stato in sottofondo fino a più volume però secondo me più stiamo andando avanti più questa trama diventa evidente e quindi sono curiosi di capire dove vuole andare a parare l'autore io vi ringrazio se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like noi ci vediamo ai prossimi video